L'ha detto Gentiloni che si farà un nuovo decreto per andare incontro ai problemi che abbiamo avuto in questi mesi. Io ritengo sia poco rispettoso verso i cittadini per raccontare un'Italia, un centro Italia che non è. Ma tolto questo, invece che fare l'interrogazione su Enel, perché non sblocchiamo tutti i soldi che i sindaci hanno da nord a sud, perché li investono nel discesso idrogeologico, nei problemi come la neve, in tutto quello che è curare il territorio, perché noi abbiamo i sindaci che hanno i soldi e non li possono investire.